Allora, caro Biagio, iniziamo subito dalla Cina perché ci sono due situazioni importanti. Uno è il congresso del popolo cinese e contemporaneamente mi dicevi che c'è sempre anche la conferenza del popolo cinese. Quali sono le due diversità ovviamente e come sono organizzati questi due eventi? Due eventi importanti che si tengono a Pechino per una settimana, una volta all'anno, il periodo dell'anno è sempre questo. E sostanzialmente la riunione del Parlamento cinese, la Cina è un paese come sappiamo immenso soprattutto numericamente e i delegati sono migliaia. Migliaia che confluiscono a Pechino per incontrarsi e per discutere e ratificare anche tutte le decisioni che sono state prese nel corso dell'anno. Il momento per fare il punto sulla situazione della politica cinese e per un confronto anche, un dibattito per quanto possibile nell'ambito appunto del partito comunista cinese per quanto riguarda ovviamente gli assetti, le prospettive per il futuro ma anche per ciò che è stato il passato. L'assemblea, il congresso meglio del popolo cinese, vede la partecipazione di 3.000 delegati, quindi sono numeri decisamente importanti, analogamente alla conferenza del popolo cinese. Quest'anno però non mancano le questioni, non manca quell'entusiasmo che comincia a non esserci più nell'ambito della Repubblica Popolare Cinese perché i problemi ci sono e sono tanti soprattutto nella direzione di determinate scelte portate da Xi Jinping. Anche la stessa stampa in Cina è particolarmente interdetta. È stata decisa che da questo momento, è stata presa la decisione che da questa occasione, da quest'anno, non ci sarà più la conferenza finale dell'evento. Ed è anche questo un aspetto particolarmente preoccupante per quanto riguarda proprio anche la comprensione di quello che viene deciso a livello della politica cinese. Non dimentichiamo che la Repubblica Popolare Cinese è il paese che ambisce a diventare nell'anno 2032 la prima economia mondiale. Di fatto la relazione, una relazione particolarmente chiusa per quanto riguarda le comunicazioni, rappresenta in ogni caso un passo indietro più che un passo avanti. Ma sappiamo che per quanto riguarda ovviamente il discorso legato all'informazione e alla comunicazione, tutto sta cambiando, compreso da noi qui in Europa. I giornalisti per poter partecipare agli incontri, per poter partecipare alle varie sessioni che in questo momento si tengono a Pechino, devono comunque, ed è questa un'altra particolarità, fare il test anti-Covid. Questa cosa continua ad essere benché presente nella Repubblica Popolare Cinese. I malesseri, come detto, sono tanti da parte del primo ministro Li Qiang, ebbene arrivano le dichiarazioni che la Cina per il 2024 punta a raggiungere un PIL del 5%. Numeri importanti ovviamente che se fossero qui in Europa, in particolare in Italia, ci sarebbe un grandissimo entusiasmo. Per la Cina invece rappresentano dei numeri particolarmente preoccupanti, vista anche la spinta propulsiva che la Cina ha nell'ambito dell'economia e della finanza mondiale. Ma in ogni caso il raggiungimento dell'obiettivo del 5% confermerebbe quanto già fatto nel 2023, quindi sostanzialmente un non calo. Questa è la prospettiva per quest'anno. E a questa prospettiva si accompagna il tentare di mantenere l'infazione sul 3%, con una disoccupazione nelle aree metropolitane non superiore al 5,5%. L'obiettivo è anche quello di creare 12 milioni di nuovi posti di lavoro nel corso del 2024. 12 milioni di posti di lavoro sono sì tanti, ma non proprio così tanti per una popolazione di un miliardo e mezzo di abitanti. Le spese militari particolarmente elevate, perché le spese militari raggiungeranno il 7% del PIL del 2024. Questo ci dà una chiara indicazione di quale siano le prospettive. La prospettiva della Cina è ovviamente delle prospettive di un mondo che, come detto, tante volte va sempre più armandosi. Non solo. I malesseri, come dicevamo, colpiscono il settore immobiliare. La grande corsa, quella iniziata nel 1997, quando Hong Kong entrava a far parte del contesto della Repubblica Popolare Cinese, passando dall'amministrazione britannica, ebbene quella corsa sta avendo una frenata. Il settore immobiliare sta crescendo anche grandi malumori tra gli stessi cinesi che hanno acquistato appartamenti e che, vedendo le aziende, le ditte immobiliari fallire, si trovano di fatto in gravi problemi, così come le banche. Una questione che coinvolge sempre di più anche il settore della politica cinese, che cerca di intervenire in tutti i modi per cercare di evitare un coinvolgimento del settore finanziario in quella che è una crisi importante. Nel frattempo, però, in ben 12 province della Cina vengono interrotti progetti di lavori infrastrutturali ed è anche questo un segnale preoccupante che si accompagna a quel problema col quale ormai la Cina dovrà abituarsi a convivere per molti e molti anni, ovvero quello dell'invecchiamento della popolazione e che rischia di portare la Cina a delle problematiche sociali di non poco conto. Però dobbiamo sottolineare tanti altri aspetti nel contesto della questione della Repubblica Popolare Cinese perché, come detto, il malessere si fa sentire al punto tale che sta aumentando il risparmio nel popolo cinese. Come dire, i consumi non sono più all'altezza precedente e per un Paese che basa tutto ovviamente sul discorso della produttività entrare in una crisi dei consumi all'interno dove c'è un mercato di un miliardo e mezzo di persone ebbene tutto questo può comportare delle problematiche ulteriori. Se ritorniamo invece in Europa manca tutto in Europa non c'è nemmeno la Costituzione fra le varie cose però ora l'Unione Europea stanzia dei fondi per la difesa, la difesa dell'Europa chiaramente cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che da questo momento un miliardo e mezzo di euro verranno dedicati proprio all'acquisto di armi è un discorso particolarmente complesso che si sta innescando perché bisogna entrare anche a comprendere quali siano gli obiettivi che ha l'Unione Europea a parole quello legato ovviamente a una difesa a una difesa europea congiunta per poter rispondere a tutte le situazioni che il futuro potrebbe presentare. Cosa significa questo? È tutto da interpretare perché ovviamente guardiamo guardiamo a quel percorso che ormai è innescato e non c'è nessuna intenzione ad interrompere di una contrapposizione con la Russia. Siamo ritornati a quello che precedeva il 1989. In quel momento storico era il muro di Berlino a rappresentare simbolicamente la divisione tra l'est all'ovest tra l'egemonia portata dagli Stati Uniti e l'Unione Sovietica dall'altra parte e oggi ci siamo ritornati dopo più di 30 anni e il problema ovviamente è evidente ma soprattutto questo problema è evidente per una Unione Europea che si è con la sua politica e con le sue linee si è completamente ceduta agli Stati Uniti sostanzialmente la dipendenza è questa anche perché gli interrogativi è da dove arriveranno queste armi nel contesto dell'Unione Europea? Da un lato l'acquisto l'acquisto ovviamente esterno da parte dell'Unione Europea puntando al 2027 come l'anno di riferimento per acquistare almeno il 35% di armi nel contesto europeo ovvero fabbriche nel contesto europeo e anche qui qualcuno comincia a guardare quali saranno le fabbriche dove saranno queste fabbriche in che paesi saranno queste fabbriche di armi soprattutto perché il business delle armi lo stiamo vedendo bene sta portando un giro di affari che è veramente colossale lo abbiamo osservato a partire dal 2020 la corsa agli armamenti nel mondo anche lo stesso come abbiamo detto precedentemente il 7% del PIL cinese dedicato proprio alle armi mostra come tutto questo si stia muovendo in una certa direzione il problema però è il seguente cioè che il fatto della corsa alle armi non può nient'altro che mettere in allarme questo è il problema perché poi di fatto le armi hanno il difetto che se non le usi non puoi più andare a portarne di nuove e allora il problema dell'uso delle armi va nella direzione delle guerre insomma in questo momento la preoccupazione è tanta invece per quanto riguarda la Nato cosa si dice sul fronte russo? eh sì anche la stampa russa ovviamente parla della Nato non solo quella europea in Europa si parla di una Nato così come della difesa ovviamente per una contrapposizione si guarda alla Russia come la realtà attraverso le parole di Austin tenute alla Camera dei rappresentanti per evitare la Camera dei rappresentanti a finanziare ulteriormente l'Ucraina si dice che la Russia non si fermerà con l'Ucraina che poi andrà avanti che coinvolgerà qualche altro paese europeo che la Nato dovrà intervenire ebbene in Russia si dice esattamente il contrario che la Nato sta progettando una guerra contro la Russia quindi di fatto noi vediamo come le in questo momento le tendenze siano diametralmente opposte nella visione allora diventa sostanzialmente complesso e l'interrogativo è dominante quale sarà la verità? mentre la Svezia cosa dice? eh la Svezia la Svezia sta vivendo questo momento particolarmente complesso perché l'entrata nella Nato della Svezia perché ormai si tratta solo di questioni di pura formalità nel momento in cui saranno concluse la Svezia ufficialmente sarà nella Nato e la discussione in Svezia è ampia perché poi in definitiva il popolo svedese è particolarmente perplesso e molto preoccupato vista anche una situazione di una stampa che cerca di portare un'attenzione prevalente verso quello che è la sensazione di una paura di una guerra e tanto è stato fatto in questo periodo per appunto mettere in allarme i cittadini svedesi ad arrivare a un'accettazione che la Nato sia la soluzione e le preoccupazioni ci sono però intanto gli effetti saranno immediati perché le 17 basi che sono presenti in Svezia basi militari subito diventeranno operative proprio per accogliere componenti dell'esercito statunitense e già questo ci dice perché la Svezia sia importante per la Nato in generale per gli Stati Uniti in particolare molte sono le valutazioni si fanno delle considerazioni delle ipotesi anche su un eventuale coinvolgimento ci sono delle teorie per quanto riguarda quanto accaduto al gasdotto russo Nord Stream 2 insomma la discussione è ampia quello che comunque è vero è che la Svezia ormai è entrata nella Nato se ti abbiamo degli aggiornamenti sulla questione israeliana israele-gaza gli aggiornamenti sono dei non aggiornamenti nel senso che non cambiano le cose questa è la realtà ci si aspettava che domenica si potesse arrivare finalmente in Egitto a un accordo tra Israele e i componenti di Hamas per arrivare a un cessato il fuoco la vicenda ovviamente di quanto accaduto nella striscia di Gaza a nord della striscia di Gaza in quella terribile situazione degli aiuti umanitari che ha visto la morte di 115 persone più di 700 feriti ovviamente ha portato a un'interruzione si attribuiscono responsabilità reciproche nel non voler raggiungere l'accordo ma la storia ci ha insegnato che da tantissimi anni gli accordi non si raggiungono questo è il problema drammatico in questa situazione e in quella realtà che poi di fatto non riesce ad arrivare a una conclusione quello che resta anche in questa situazione è comunque un popolo quello palestinese che si trova soggetto a una guerra terribile sai che il tempo è scaduto? eh sì abbiamo fatto un accorso incredibile ma so che tu sei contento sì sono molto contento e domani quello che non è stato affrontato oggi lo affronteremo poi tutte le novità tutte le... perché insomma siamo sempre sulla notizia questo è importante e non possiamo dimenticarci di Donald Trump che avanza in maniera... e Biden che ha perso eh attenzione c'è stata una notizia di Biden che ha... nell'ultima consultazione non ha vinto strano sì è non ha vinto nelle isole Samoa adesso... è importante questa cosa qui va bene dai ti ringrazio ovviamente ci risentiamo domani come al solito ti aspettiamo alla stessa ora ciao 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 ciao